Noi abbiamo l'Umbli, l'Unione Nazionale delle Prologo d'Italia, che da tantissimi anni fa sì che il territorio venga a essere tutelato negli aspetti di carattere sociale, culturale e soprattutto nella loro tipicità. L'Umbli è una delle poche associazioni a livello nazionale riconosciute in Chiave Unisco, siamo 6.700 prologo in Italia, in provincia di Salerno le prologo sono 154, di cui 87 riconoscono all'Umbli. Noi siamo per il patrimonio culturale, siamo per le tradizioni, ma lo mettiamo in sinergia con tutti quelli che sono i momenti applicativi. Le prologo servono a mettere in sinergia il passato con il futuro, tenendo presente che solo nella conservazione e nel far sì che le future generazioni siano capaci di apprendere quelli che il territorio è sempre riuscito a dare, un momento di appartenenza.